Sì signora, sono il papà. Sì, Chiara si ferma qui da noi. Credo che si stia innamorando del mio caffè. Faccia come noi. Cambi caffè. Nuovo Splendid. Beh, un'altra cosa, un altro aroma. Eh, bisogna provarlo. Com'è? Sì, Chiara lo accompagniamo noi. Tranquilla. A risentirci. E magari per un caffè. Che aroma. Nuovo Splendid. Non c'è aroma più grande. Grazie.